Qui nel 1865 venne prodotto il primo spumante secco. Oggi, ben consapevoli di questa importante eredità, l'azienda Conte Vistarino si è rinnovata con l'inaugurazione di una moderna cantina a Rocca de Giorgi, capace di coniugare in un oltrepoviti vinicolo frazionato da mille problematiche, storia, design e tecnologia. Questa cantina unisce il passato al futuro, perché l'edificio è storico ma è stato comunque convertito con un'impronta molto moderna, sia per la tecnologia che per l'architettura. L'idea è quella di dare un futuro al pino nero dell'oltrepov, partendo da Rocca de Giorgi, cioè ripartendo da Rocca de Giorgi, dove è partito nel 1850 e dare anche al territorio un qualcosa che possa invitare le persone a venire, oltre alle già mille ragioni che ci sono, dare quel qualcosa in più per creare anche turismo. Legata ad un territorio da tempo in conflitto e consapevole dell'investimento messo in atto in questi anni, Ottavia Vistarino commenta senza giri di parole le ultime vicende legate al mondo vitivinicolo oltre Padano. Io penso che quello che sta succedendo nasce semplicemente da un ennesimo grande cambiamento del mercato. Se non ci fossero problemi di mercato, probabilmente non si sentirebbe parlare di tutti questi problemi nei confronti delle istituzioni, delle associazioni o delle aggregazioni in generale. Nel senso che quando si annaspa si crea la bagarre. Fa bene, in realtà fa bene tutto questo perché dà una scrollata al territorio e fa capire che è arrivato il momento di rifare tutto da capo. Io credo che ci sia l'impegno di tutti per il cambiamento. E' chiaramente comprensibile la difficoltà che ognuno riscontra a fare questo cambiamento. Ma il cambiamento è obbligatorio, quindi non va più bene niente, non va più bene, non dico il consorzio, ma in generale si sta rimettendo tanto, tanto si sta rimettendo in discussione proprio per il fatto che tutto questo non va più così bene.